Musica ragazzi dobbiamo lavorare noi abbiamo delle istruzioni metà stampa entra e metà no che istruzioni sono? non è un caso ho capito ma è tutto il nostro interesse che voi lo facciate voi fate l'informazione quindi fateci entrare ma ci danno l'ok ma ci danno l'ok se ne va no, se ne dobbiamo fare questo se ne va e lui per cortesia adesso ci allargiamo andiamo